In tutti i sensi, ho conosciuto Valeria Marini quando era giovane a Roma e io ero già un attore che andava a Maurizio Costanzo Show. Quindi qua mi fermo, però volevo fare due sottolineature. Uno per quanto riguarda il discorso delle donne grazie, obese, io ho fatto un commento, mi scuso del cesso, ma io ho detto che è un intercalare napoletano per dire una cosa così, ma non ha mai detto cessa. Per quanto riguarda il confronto che ha avuto con la signora Rusic, infatti ho detto è il triplo di te, è la verità, non è che ho detto una bugia. E poi per quanto riguarda il discorso che loro due, la Rusic è stata una signora vincente, lei parlava dello spettacolo, parlava che la casa era sua, che lei è arrivata seconda in finale. Cioè tutti i discorsi inerenti a una casa che ormai lei non appartiene, che ci siamo noi, siamo noi i nuovi inquilini e ci siamo noi. E siete voi i protagonisti. Ma come puoi parlare così di una donna con chi sei stata? A letto o a dove, non capisco. Ma stai lanciando una bomba a Wanda Nara, ma ti rendi conto? Ma stasera siamo partiti veramente, cioè, con la quinta. Ma tu hai bisogno che ti fa un, non lo so, che un schermo che ti fa un disegno. Io ho capito quello che hai voluto dire. Hai detto che ha successo qualcosa tra di voi. Ma quello è successo quando eravamo giovani, fletti di gioventù. Eh, va bene, allora è successo. Ma certo che è successo, è successo sì.